allora ragazzi oggi si è a pescare il persico gatto qui nelle sponde di trasimeno c'è pieno vi faccio vedere come si fa a pigliarli vai là potete vedere il trasimeno e laggiù in fondo c'è il toro sui trasimeno pesca ai persico gatto una pesca nuova la fa solo io non sa fa nessuno in pratica io pesco con l'alcol è una tecnica di pesca che la mandata dai nonno di nonno di dimmi nonno andiamo a vedere occhiali verde perché c'è pieno vorrei testarne una allora eccoci questo è un buco fammi vedere allora allora qui e gli sbolla c'è qualcosa vedi guarda che unghiello nero lercio ora se mangi mangia mangi il dito allora io non uso né bacini né mais mi porto l'alcol da casa una per me e una per i pesci o io ho un molare incisivo inferiore e gli si va a appassare vai eccoci ora si guarda che succede intanto si è appassato ma vediamo se gli abbocca eccolo ha fatto capolino eccoci via gli abboccato questo esemplare di persico gatto ragazzi ma comunque il 28 settembre toscana maremma vai alla show tuoro sul trasimeno in provincia di perugia bucaioli non mancate ma ritorniamo al nostro video vediamo riccardino alle prese col suo persico gatto con le mani con le mani ignude ragazzi l'ha preso e con una boccia di birra di d'alcol due la secca e lui l'ha bevuto e lui che quell'altra la dà ai pesci ai brava ai classi mai gli appesa anche il morto ma gli è mezzo priaco tu sei mezzo priaco che fai il cazzotto che gli fai il pugno maremma appestata e il pesce gatto buca eh ragazzi il pesce gatto buca brutto come poi ma che scherzi vai riporta secondo secondo round vai con le mani ma non si buca ma che scherzi in cos'è sto smutaccio vai con le mani allora lo piglio no ma un paio di guantini magari no eh ma poi che fa gli mangia questi pesci sono marci e gli stanno nella mota nifango via con le mani vai va 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 gli andata a rompere i coglioni e dormia poverino il tuo pesce e allora vai nicestello stasera risottino eh risottino sui persico o si fa la griglia ai cartoccio come sa fare ah vai 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 28 settembre tuoro sul trasimeno provincia di pelucia toscana maremma maiala show